Oggi cominciamo con Rocco Rosignoli che è una persona che collabora da tanti anni con il Museo Traico e Postolari in qualità di guida, ma lui è anche un valente musicista e oggi ci sorprenderà con una lezione spettacolo musicale dedicato alla resistenza ebraica nei ghetti, nei ghetti istituti dai nazisti, una pagina di storia che in pochi conoscono ma che è indubbiamente molto interessante e che ci fa riflettere su una show in una maniera che probabilmente è ancora inedita, a cui noi siamo abituati a pensare. Quindi vi ringrazio della vostra attenzione e della vostra presenza e grazie ancora. Buona serata. Bene, buonasera a tutti. Tanto vi ringrazio di essere qui, quest'oggi non avete sfidato il maltempo di questa giornata uggiosa, grazie per essere qui davvero. E come anticipava Roberta, quello di cui ho intenzione di parlarvi oggi è la realtà della resistenza nei ghetti. Prima però volevo partire sul concetto di ghetto. Che cos'è il ghetto? La parola ghetto noi ancora oggi la usiamo molto spesso anche nel linguaggio comune. Intendiamo magari una zona degradata della città dove vanno a vivere le persone che non possono permettersi di stare altrove, insomma le fasce più povere della popolazione. Oggi quello della ghettizzazione, diciamo così in senso figurato, è un processo che avviene in maniera spontanea, se non proprio spontanea, in maniera non forzata dall'autorità ma forzata dalla condizione economica. La parola ghetto però, quando nasce, nasce per descrivere qualcosa di differente. C'è da fare un viaggio nel tempo, andare agli inizi del 1500, per la precisione nel 1516, e c'è da andare nella città che forse all'epoca era una delle più ricche del mondo, Venezia. 1516 Venezia. In questa città, a un certo punto, quell'anno, i mercati che li comandano, per alzata di mano, decidono che una componente della popolazione deve andare a stare sull'isola, deve essere chiusa lì dentro, da lì non può uscire, non può avere contatti con i cristiani e le rare volte che gli è concesso di uscire, deve indossare un segno distintivo. Insomma, la colpa che avevano queste persone era quella di avere una religione, all'epoca si poteva parlare degli ebrei proprio come solo di un gruppo religioso, di avere una religione differente da quella della maggior parte della popolazione. Mismo cielo, Misma estrella, Misma luna, Esta noce, Stan tornando, Una a una, Mismo cielo, Misma estrella, Misma luna, E sono le scerciate, Sono le screrci, Sono le scorie, che da allora che stanno cantando come il tempo che fa il suo cammino è la storia di un stesso destino luna clara è la melodia è nascita in la ruderia quando tussi raios di plata chiamano sobre il mondo e mille voces cantavano luna clara è la melodia escarece la estrella luna clara è un antiguo sentimento con un canto e un lamento non sapere la vita o luna separati grazie grazie questa canzone che avete sentito sembrava in spagnolo in realtà è qualcosa di molto simile allo spagnolo talmente simile da sembrare quasi la stessa cosa è il giudeo spagnolo chiamato anche ladino per noi in Italia dire ladino si fa pensare al friuli ai cantoni svizzeri eccetera ladino però è un nome che ha diverse lingue non sono lingue collegate tra di loro il ladino in Italia è una cosa in Spagna e nel Maghreb invece indica proprio questa lingua antica degli ebrei che in Spagna appunto vivevano gli ebrei separditi e oggi noi quando parliamo degli ebrei non possiamo identificare al 100% il popolo ebraico con la sua religione è stato così per secoli oggi sono tanti anche gli ebrei atei oppure laici che non si legano alla professione di un credo però mantengono intatto un legame con una componente culturale familiare da cui provengono nel 1500 però l'identificazione del popolo con la sua religione era unica non solo per gli ebrei ma per tutti i popoli ma la domanda che ci si fa sempre a questo punto e che è quella più difficile a cui dare una risposta è perché gli ebrei davano così fastidio tanto da spingere anche i mercanti veneziani a chiuderli su un'isola e lasciarli lì allora venezia era una città che aveva una situazione particolare lì dunque diciamo che in tutta Europa ad avere il potere più forte era il papa non era un sovrano che avesse proprio come dire il comando sugli altri però essendo questa autorità morale la sua parola influenzava tutti quanti i regnanti e il papa non è mai stato amico degli ebrei dell'ebraismo lo sappiamo almeno fino a tempi molto recenti insomma gli ebrei avevano una religione più antica del cristianesimo e poi nonostante l'arrivo di Gesù avevano continuato a osservare quella loro religione per il papa non avevano saputo vedere la verità e poi quando Ponzio Pilato chiede agli ebrei se vogliono liberare Gesù oppure Barappa gli ebrei scelgono Barappa e quindi gli arriva anche un'altra delle grandi accuse uno non hanno riconosciuto il vero messia due il popolo dei Cire il popolo che ha deciso addirittura di uccidere il Dio quindi insomma per il papa non ci sono buoni rapporti tra il papato e l'ebraismo però nella ricchissima Venezia il papa non comandava nella ricchissima Venezia comandavano come direbbero loro i schei comandavano i soldi la legge che si seguiva era quella tant'è che l'inquisizione la famosa la famigerata santa inquisizione a Venezia era anche tutto sommato piuttosto blanda certo è stato a Venezia che Giordano Bruno è stato arrestato però poi il problema è stato che l'hanno trasferito a Roma ed è lì che hanno deciso di giustiziarlo a Venezia tutto sommato la forza era mitigata dalla potenza economica che avevano questi mercanti che comandavano la città il problema è che i mercanti magari non hanno paura del papa però hanno paura della concorrenza la canzone che vi ho cantato in giudeo spagnolo è una canzone appunto degli ebrei che dalla Spagna furono cacciati nel 1492 quando i re cattolici concludono il loro famoso percorso di re conquista e cacciano via tutti quelli che non sono cattolici l'obiettivo principale sarebbero i musulmani che avevano comandato in quel paese per secoli ormai per 5-6 secoli insomma anche 7 però si prendono male anche gli ebrei naturalmente il criterio non è ancora raziale però si basa davvero sul sangue per la prima volta non è più la realizzazione del problema ma è la discendenza sanguina la limpiezza del sangue è quello che conta per essere considerato un vero spagnolo insomma non uno spagnolo di serie B gli ebrei vengono cacciati si spargono lungo le coste dell'Africa quindi lungo il Maghreb l'Africa settentrionale e in molti vanno verso dove fare così per voi verso l'impero ottomano verso l'impero turco perché lì in una zona musulmana hanno la possibilità di vivere sotto lo statuto dei dimmi che sono quelli che seguono il libro non importa se lo interpretano male seguono diciamo seguono male il Dio giusto quindi vanno trattati bene vanno rispettati quantomeno va mantenuta la loro integrità fisica era un po' diversa all'epoca anche diciamo la tolleranza geopolitica in generale però lungo il percorso verso l'impero ottomano si passa anche da Venezia per molti e quando ti trovi a Venezia scopri che lì il Papa non conta che lì molti hanno la possibilità anche di arricchirsi molti venivano magari da famiglie di mercanti non ricchi mercanti ma gente che comunque era capace di trattare capace di fare affari capiscono che c'è anche la possibilità di migliorare la propria condizione di vita e quindi decidono di fermarsi lì l'unica cosa di cui i mercanti hanno paura la concorrenza e allora a un certo punto per alzata di mano decidono che tutti i ebrei i concorrenti vanno schiappati su un'isola si chiudono i battenti e si lascia lavorare chi ne ha diretto questa è una canzone che ha tradotto il Enrico Fink è una canzone nata in Yiddish che parla di un incendio che ci fu proprio nel ghetto di Venezia io vorrei cantare un poco con la misera mia voce e dirvi di quel fuoco di quell'incendio atroce che fe tanti senza tetto spingendosi veloce tra ponti, calli e il ghetto per volere del Signore grande fu il clamore al bruciare di rialto grida di dolore si levarono su in alto e giovani ed anziani vecchi e commercianti ebrei e veneziani invocavano i creatori ma pensare alla razzia ahimè furono in tanti come presi da follia si fecero furfanti e volendo diventare ricchi in pochi istanti continuavano a lodare la grazia del Signore ma correvano portando enormi sacchi e smorte e uno barcollando inchinava giù la fronte perché portava al collo un secchio e si inerpicava per il ponte ma cadde e finì a mollo gridando oh mio Signore ma dopo quello smacco con forze rinnovate di nuovo riempì un sacco di merci trafugate ma lo vide uno in ebreo che lo riempì tanto di legnate per rubarvi quel trofeo da spedircelo al creatore di tanta mercanzia ne era rimasta solo una una forbice da sarto però gli cadde via e sprofondò in laguna i poveri restano poveri non muta la fortuna ma in fondo sono gli umili gli eletti del Signore ma in fondo sono gli umili gli eletti del Signore grazie 40 anni dopo nel 1555 il Papa pensa che quella dei veneziani sia stata una buona idea decide che i bravi cristiani devono isolare gli ebrei per non farsi traviare dalle loro menzogne e quindi il ghetto si diffonde in tutta l'Europa cristiana e rimane realtà per ben 300 anni fino a quando all'inizio del 1800 non arriva qualcuno adesso vi faccio un gesto arriva Napoleone e decide che in ogni città che lui libera qualcuno direbbe conquista qualcuno direbbe libera il ghetto non può più esistere il ghetto deve essere tolto Napoleone veniva comunque dalla temperia rivoluzionaria quindi dichiarazione dei diretti dell'uomo e del cittadino tutti gli uomini liberi e uguali tranne lui naturalmente che doveva essere l'imperatore ma gli altri tutti liberi e uguali e di conseguenza abolisce il ghetto in quel momento comincia quella che è l'emancipazione degli ebrei e fino ad ora abbiamo parlato però del ghetto dell'epoca moderna che è esistito appunto dal 1500 al 1800 dappertutto tranne qui qui possiamo vantarci al bar magari con gli amici in questa zona con gli amici non di qui perché se sono di qui non abbiamo niente di cui vantarci qui è l'unica zona insieme a Livorno di tutta Italia in cui il ghetto non c'è stato ed è il motivo per cui abbiamo una sinagoga soragna perché certo il ghetto non c'era però non era così facile ignorare le disposizioni papali e allora Ottavio Farnese che all'epoca regnava contrattò e riuscì a stabilire che gli ebrei va bene non potevano vivere sul suolo della città di Parma però fuori sì e ci vivevano in relativa libertà addirittura in questa zona potevano comprare delle terre cosa che era assolutamente proibita in tutta Europa uno dei grandi divieti che si erano nei confronti degli ebrei era proprio quello di possedere la terra e di lavorare la terra quindi adesso abbiamo parlato del ghetto di epoca moderna nell'epoca contemporanea cambia noi oggi usiamo questo termine appunto per definire qualcosa di diverso ma in realtà la nascita del ghetto è legata alla nascita del razzismo noi oggi usiamo il termine razzismo con una certa disinvoltura insomma qualsiasi tipo di intolleranza tendiamo magari a bollarla indebitamente come razzismo in realtà la questione è un po' più complessa nel senso che il razzismo tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento si è proposto proprio come una scienza scienza non era oggi noi lo sappiamo bene però c'erano scienziati che si reputavano razzisti e che pensavano effettivamente che esistesse una razza che era destinata a guidare tutte le altre perché geneticamente superiore questi scienziati erano bianchi europei maschi bianchi europei e naturalmente pensavano che la razza destinata a guidare l'umanità fossero i bianchi europei erano assolutamente imparziali naturalmente nel trarre queste conclusioni e le razze invece che mettevano a rischio la purezza di questa razza che loro identificavano come la razza ariana l'unica razza europea che avesse conservato i caratteri dell'originare razza ariana erano appunto i bianchi europei e tutte le altre razze ne minavano la purezza e quella più pericolosa ovviamente era quella che loro chiamavano razza ebraica perché era la più pericolosa perché gli ebrei vivevano in diaspora in Europa dal 70 dopo Cristo e quindi c'erano ebrei in ogni dove e come sempre accade i confini tra luoghi e tra comunità di persone sono labili e sono permeabili e quindi succede che ci si mischia e mischiare per questi biechi personaggi era la cosa peggiore che si potesse fare di conseguenza gli ebrei erano il pericolo forse maggiore rispetto a tutte le altre razze perché le altre razze avevano caratteristiche anche visibili che le rendevano più facilmente distinguibili l'ebreo invece si era talmente integrato soprattutto dall'emancipazione in poi che era anche difficile riconoscerlo a vista e quindi bisogna assolutamente correre ai ripari non è Hitler che inventa l'antisemitismo non è nemmeno la Germania tra l'altro il paese più antisemita in quel periodo storico la Francia probabilmente se dovessimo indicarne uno è quello che storicamente è stato più antisemita però paradossalmente Hitler è quello che sa prendere tutto questo malcontento antigiudaico che poi diventa antiebraico veramente razzista e usarlo cavalcarlo per raggiungere il potere e Hitler va al potere promettendo tante cose ma fondamentalmente i punti salienti sono pochi uno una Germania forte e unita che sarà la Germania che regnerà sull'Europa intera due una Germania in cui la popolazione appartiene tutta a un'unica razza meglio se i bianchi di pelle e i biondi di capelli e promette a tutti i tedeschi un mondo senza ebrei queste sono le grandi promesse primo settembre del 39 Hitler parte alla conquista della Polonia e dà il via alla seconda guerra mondiale conquistare terra realizzare un impero è quello appunto che è uno dei suoi obiettivi da sempre però c'è una cosa a cui forse non ha pensato abbastanza ossia che i paesi dell'est Polonia Littuania eccetera hanno una grandissima concentrazione di popolazione ebraica quindi quello che lui fa il suo movimento verso est tradisce una delle sue promesse cioè quella di un mondo senza ebrei lui sta creando un impero in cui gli ebrei in percentuale crescono proprio perché in quelle zone la situazione demografica è quella e perché ci sono tanti ebrei in quella zona anche lì nel 1791 la zarina Caterina di Russia li aveva mandati nella zona di residenza che a dirlo così sembra anche una bella residenza invece no insomma era una zona di resistenza coatta la più inospitale forse del territorio a disposizione gli ebrei non è che erano invitati a residere lì era proibito vivere in ogni altro luogo e dovevano vivere in questa pace che era proprio al confine estremo dell'impero perché non disturbassero la popolazione del resto dell'impero non era un problema solo francese o solo tedesco l'antisemitico era un problema proprio europeo a tutto tondo e là quindi le generazioni di ebrei si erano succeduti e vivevano ancora in queste strutture particolari che erano delle cittadine vere e proprie tanto che in yiddish vengono chiamate proprio col diminutivo della parola città gli stettel stadt in tedesco vuol dire città stadtel è il suo diminutivo yiddish piccola città cittadina villaggio magari diremmo noi erano in genere strutture fatte di case effimere fatte con legno fatte con materiali facilmente deperibili e anche come dire nel senso c'era da evitare di investirci troppo lavoro perché da un momento all'altro venivano devastati questi paesi a volte anche proprio per legge si scatenavano in pogromo contro la popolazione ebraica e di lì venivano scacciati andavano quelli che sopravvivevano naturalmente andavano a vivere altrove adesso per darvi un'idea di quello che erano i pogrom vi faccio un esempio che potrà sembrare stupido ma che stupido invece assolutamente non è se noi guardiamo il cartone animato Fieber Sparca in America all'inizio ci sono i cosacchi che arrivano in questo villaggetto e cacciano via tutti e i topi vengono predati da questi gatti anche loro col cappello da cosacco ecco io da bambino non l'avevo capito adesso lo so quello era un pogromo i topi venivano cacciati dai questi gatti cosacchi in quanto ebrei anche lì forse chi lo sa c'era la influenza già di Maus di Art Spiegelman che era uscito proprio in quegli anni in cui gli ebrei venivano raffigurati come dei topi insomma c'era tutta una cosmogonia animale particolare e insomma questo è quello che erano i pogromi molti decidono di partire molti decidono di andarsene però la concentrazione ebraica in quella zona rimane comunque molto alta l'espansione verso est della Germania fa crescere la percentuale di popolazione ebraica nel Reich all'inizio gli ebrei che vivevano in quelle zone ancora non si immaginavano bene ciò di cui i nazisti sarebbero stati capaci nel gennaio del 42 i vertici politici tedeschi però decidono di adottare la famosa Entlersen la soluzione finale conferenza di Van Zee questi qua Hitler non c'è decidono senza di lui che insomma in qualche modo bisogna adottare una soluzione finale prima avevano fatto delle fucilazioni di massa però le fucilazioni di massa avevano un problema ossia a parte il dispendio che magari sarebbero stati anche disposti ad affrontare i soldati rimanevano traumatizzati e quindi per disumanizzare il processo si arriva all'idea dei campi di sterminio e i campi di sterminio hanno però bisogno anche di una sorta di serbatoio di pivaio in cui tenere le persone che i campi poi devono andare e allora viene rispolverata l'idea del ghetto la popolazione ebraica viene riconcentrata in delle zone delle grandi città da lì non può muoversi periodicamente i nazisti arrivano e prelevano persone da portare allo sterminio all'inizio non si immaginava addirittura abbiamo Marek Edelman che era un attivista politico che poi diventa un partigiano del ghetto di Varsavia che ci racconta che nell'autunno del 39 quindi invasione già avvenuta gli ebrei continuavano nella città con le loro attività anche sotto l'occupazione tedesca lui a quel tempo è un esponente del Bund il Bund che cos'è? il Bund è un partito politico un partito socialista ebraico è un partito che all'epoca è l'avversario diretto potremmo dire all'interno della realtà ebraica è l'avversario diretto del sionismo il Bund è antisionista anzi è proprio per la Deutschland cioè è il da tedesco cioè qui stare qui lo stare qui per noi queste sono le terre dei nostri antenati sono queste le terre in cui vogliamo vivere e vogliamo viverci come uomini liberi e per liberarci quale metodo migliore del socialismo l'ha pure inventata Marx che era uno di noi e loro l'interpretano naturalmente in chiave identitaria ma comunque aperta a qualunque esponente di popolazione anche non ebrea certo la base è profonda è il proletariato ebraico insomma Mare Kederman è uno di loro e ci racconta questa cosa e lo rincontreremo più avanti anche a Cracovia c'è un altro attivista politico sempre bundista che già nel 1938 avvertiva i suoi correligionari dell'incendio che stava per divorare per l'appunto il loro state va a fuoco fratelli va a fuoco questo povero villaggio va a fuoco questo vento maledetto soffia dalla base al tetto con le fiamme verso il cielo e tutto brucerà e voi state lì a guardare con il naso in su e voi state lì a guardare mentre brucia il nostro shtetl va a fuoco fratelli va a fuoco questo povero villaggio va a fuoco questa fiamma ormai lo inghiotte nel rossore della notte mentre il vento sta gridando che tutto brucerà e voi state lì a guardare il naso in su voi state lì a guardare mentre brucia il nostro shtetl va a fuoco fratelli va a fuoco lo capiamo che oramai manca poco che il villaggio e i suoi abitanti siano carbone tutti quanti e come dopo una battaglia niente in piedi rimarrava e voi state lì a guardare con il naso in su e voi state lì a guardare mentre brucia il nostro shtetl va a fuoco fratelli va a fuoco ora è tempo di mettervi in gioco non vi aiuterà nessuno prendi il secchio uno ciascuno e riempiamoli col sangue se qui d'acqua non ce n'è non restiamo più a guardare con il naso e spegniamo assieme il fuoco che brucia il nostro shtetl grazie 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 mille Mordecai 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 in realtà in inglese Mordecai Mordecai il nome che usiamo noi per chiamarlo il grande cantore del ghetto di Cracovia oggi parleremo molto di lui le sue canzoni offrono uno spaccato sociale molto colorato di quello che era l'ebraismo dell'Europa orientale quell'ebraismo che poi seguendo i piani nazisti è stato spazzato via con la Shoah la catastrofe che ha sterminato 11 milioni di persone di cui 6 milioni erano ebrei quella catastrofe che culmina con la costruzione dei campi di sterminio dei complessi industriali fatti per uccidere il maggior numero di persone nel minor tempo possibile e con la minor fatica da parte degli addetti all'assassinio tecnica e scienza che vuol dire anche tecnici e scienziati si sono messi al servizio di un progetto grandioso ed efficiente razionale consapevole di assassino di massa non si tratta di una grande quantità di morti prodotta dalla guerra è un'altra cosa questo purtroppo succede ancora oggi in tanti posti si tratta di un progetto ad ampio spettro per rimuovere una componente della popolazione individuata sulla base di caratteristiche etniche o come direbbe chi l'ha ideata caratteristiche razziarie però prima di raccontarci tutto questo Gebirti ci racconta tanto altro ci racconta della crisi economica di come le strade della sua città sono piene di disoccupati ma anche che è proprio in queste condizioni di disagio che nasce quello spirito di mutua assistenza che caratterizza la classe operaia e in particolare l'idea politica che è propria del Bund questa è la sua marcia dei disoccupati lui naturalmente scriveva in lingua itis queste canzoni le ho tradotte io perché secondo me sono troppo belle perché un pubblico italiano non possa seguire il viso marcia un, due qua il lavoro più non c'è il martello sul punzone tace ormai nel capannone già c'è un freddi i nostri arnesi arrugginiti ormai da mesi tutto il giorno stiamo fuori passeggiando da signori passeggiando da signori marcia un, due qua il lavoro più non c'è senza soldi e senza tetto paglie e pango il nostro letto ma quel poco che ci resta si spartisce un poco a testa prendiamo più bere di tieri ma con l'acqua nei bicchieri ma con l'acqua nei bicchieri marcia un, due qua il lavoro più non c'è una vita a costruire case e strade ad arricchire tutti quelli che non sanno quanto vale quello che hanno e il compensora qual è che non c'è posto più per te che non c'è posto più per te e marcia un, due qua il lavoro più non c'è noi che siamo senza lavoro intoniamo tutti in coro questo canto ha un mondo nuovo dove libero sia l'uomo e non ci sono sfruttati niente più disoccupati niente più disoccupati disoccupati niente più disoccupati niente più disoccupati niente più disoccupati gheberti click ci racconta quindi la realtà politica della sua comunità però non solo non è l'unica cosa di cui parla noi grazie a lui abbiamo anche un quadro della condizione familiare e della condizione femminile della vita nelle famiglie più tradizionali Nell'ottica bundista uomini e donne erano pari, altrettanto poi però non avveniva tra le mura domestiche, ai mariti aspettava la vita pubblica e alle donne invece rimaneva certo in casa comandavano però molto spesso le loro ambizioni erano frustrate e cosa succedeva? Che si rifacevano sui figli riversando su di loro le loro aspettative, le loro necessità insomma. E questa canzone, Ianchele, è proprio il racconto di una madre stanca che non riesce neanche a dormire ma che guarda il figlio sperando che un giorno non faccia contento solo il suo papà ma faccia contenta anche lei diventando un grande saggio, un venerabile rabbino, un Talmet Hochem dice in originale, uno studioso, un sapiente di Talmud insomma. Ma intanto è nel letto e fa quello che fanno tutti i bambini e sentirete che cos'è. Fai la nanna, Ianchele, è piccino Chiudi i tuoi occhioni e dormi un po' Hai già messo l'ultimo dentino Ma vuoi che io ti canti, Ninna Ho Hai già messo l'ultimo dentino Ma vuoi che io ti canti, Ninna Ho Hai già messo l'ultimo dentino Tra poco sarai pronto al bar mitzvah Se mamma non ti culla fai un pianto Ma presto saprai leggere il fumasce Un bimbo grande studia l'atoral Sarai un venerabile rabbino Sarai un grande orgoglio per papà Ma a me non fai fare neanche un pisolino Sarai un grande orgoglio per papà Ma a me non lasci fare un pisolino Sarai di certo un saggio per il tuo destino Ed uno sposo forte e intelligente E negli affari farai un gran cammino Ma adesso bagni il letto sorridente E negli affari farai un gran cammino Ma adesso bagni il letto sorridente Adesso dormi, sposo intelligente Finché sei nella culla, sarai mio Sanguinerò fingendo che sia niente Finché non sarai uomo, soffro io Sanguinerò fingendo che sia niente Finché non sarai uomo, soffro io Grazie Qualche guida per decifrare alcune delle cose che vi ho cantato Magari molti sanno già di cosa sto parlando Per altri è un po' più difficile Magari il par mitzvah in generale più o meno tutti Sappiamo che cos'è? Un cerimonia che i ragazzi fanno al tredicesimo anno d'età Per entrare nella vita religiosa adulta Le ragazze che crescono prima per tutti La fanno a dodici anni, i ragazzi invece a tredici Invece il Khumash Magari qualcuno è rimasto un po' così Il Khumash che vorrebbe dire qualcosa tipo La cinquina Sono i primi cinque libri dell'Antico Testamento Quella che viene chiamata anche la Torah La parte rivelata dell'Antico Testamento La Torah appunto sapete che cos'è Sì, c'è questa cosa che traducendo dallo yiddish Purtroppo ho dovuto scegliere di tradurre con rabbino Però era molto bello perché era un Talmet Hochem Con queste parole che arrivano dall'ebraico Ma nella lingua yiddish prendono questa pronuncia Che sembrano quasi parole tedesche Vuol dire uno studioso, un sapiente di Talmud Ecco, un saggio del Talmud L'impegno politico e la vita familiare Quindi sono due dei pilastri su cui si fonda la poetica Di questo grande cantor che è Mordechai Gebirtich Ci racconta la vita ebraica della Polonia occupata Ma anche la quotidianità di una famiglia normale Anche della sua famiglia che non è troppo religiosa E di questa famiglia fa parte naturalmente anche il sentimento amoroso Osservando sua figlia, Schifre E il suo giovane fidanzato che si chiamava Enech Stamberger Gebirtich scrive questa canzone d'amore Che è tenera e spensierata e che io trovo deliziosa E che si chiama Reisle Questo Jankele, Reisle come Stetl Questa L finale è un po' il diminutivo vezzeggiativo Che c'è nella lingua indice Reisle è un nome di donna E sentiamo un po' che cosa succede tra lei e il suo innamorato Zitta in fondo un vicolo Dorme una casucola E al suo mio terreno vive la mia amata Reisle Io passeggio lungo i viali Ogni sera vado lì Faccio un fischio E poi sento sulle scale il suo passo minuscolo E poi sento sulle scale il suo passo minuscolo E poi sento sulle scale il suo innamorato Ogni giorno pregherò e il settimo di andrò in sinagoga Amora parenti il suo innamorato E poi credo E poi credo E un regalo ti farò Una borsa Per i teer fillini All'alba ti uccirò Qu포 Amando Uccirò Quando al tempio arriverai Potrai dire che La cucita La tua Reisle Un, due, tre Non ne vedono Ora sai quanto t'amo Reisole, amo la tua mamma, il piccolo e la tua casucola, amo i sassi sui tu, cammini tutti i dì, ma c'è mamma che ti chiama, la saluto e resto un po', qualche noce snacciolo, sento che sale le scale il suo basso minuscolo, e nel suo vicolo che dorme io fischio così, sognerò te, dolce Reisole, vieni qui. Grazie. Mordechai Gewirtig non sa leggere la musica, lui all'inizio era un attore e un autore teatrale, scriveva e recitava in lingua yiddish, che era lingua appunto degli ebrei dell'est Europa, lingua di base tedesca con forti flussi da parte della lingua ebraica che era la lingua del sacro. Le recensioni che parlano del suo lavoro parlano di un interprete eccezionale e prevedono per lui un futuro d'attore professionista, purtroppo però Gewirtig era cagionevole di salute, è diabetico e inoltre ha una malattia cardiaca cronica, l'angina pectoris, e dunque attorno ai 30 anni affronta un lungo ricovero e probabilmente è proprio da lì in poi che decide che il palco non va più per lui. E allora sceglie di vivere dello stesso lavoro di suo padre e anche di suo fratello, quello di immobiliere, lui restaura e vende mobili. Però non smette di interessarsi di politica e non smette di scrivere. Partecipa alle lotte componendo poesie e canzoni. Le melodie delle sue canzoni lui le compone usando un flauto, in yiddish feifele viene chiamato, e vengono messe poi sul pentagramma da un suo amico, Julius Hoffman, un pianista. E in quegli anni era raro che si facessero incisioni audio, quindi l'unico modo che abbiamo per conoscere la sua musica è leggerla, leggere le trascrizioni che ne ha fatte Julius Hoffman. Non di tutte le canzoni di Gewirtig però ci è arrivata la musica, non tutte sono state trascritte. A volte abbiamo dei testi che sono nati per essere cantati e che però non possiedono, non ci è arrivata una musica loro. E allora lì chi si fa interpretare delle sue canzoni non può fare altro che lavorare di fantasia, e chiedersi in che modo Mordechai Gewirtig col suo flauto le avrebbe prese e musicate quelle parole. Io l'ho fatto con questa canzone che si chiama proprio Nel Ghetto, che ci racconta di com'è la vita e soprattutto le notti nel ghetto durante l'occupazione. Come falangi di schiavi ormai stanchi di muovere il passo ai deserti, Vanno le giornate nel ghetto e sono bianchi, i sogni mancati ed incerti, i sogni mancati ed incerti. Vanno le ore più lente che mai, minuti d'orrore e paura, Sperando col giorno finiscano i guai, che la notte sia un po' meno dura, la notte sia un po' meno dura. Nessuno più dorme si sta sveglio e allerta, il pensiero più cupo è con noi, Qualcuno ogni notte dalla sua coperta lo strappano sempre quei voglia, Lo strappano sempre quei voglia, e dunque nel letto ti stringe l'angoscia, Se un cardine facci con l'amore, e il cuore nel petto i suoi patti ti accorcia, Se un topo squittisce e scompare, se un topo squittisce e scompare. Il corpo si gela se il vento là fuori, fanno muovere foglie e cartacce, Non puoi dire addio neanche ai tuoi genitori, né ai figli che dormono in fasce, Né ai figli che dormono in fasce. Si passano le notti più cupe e angosciose, da schiavi braccati e scoperti, Così vanno i giorni nel ghetto, i sogni anchi, i sogni mancati ed incerti, I sogni mancati ed incerti. Il ghetto di Cracovia, Mordecai e Gebirte, che ce lo racconta così, Lì i nazisti hanno concentrato gli ebrei appunto in attesa di spedirli verso i campi. Ci sono diversi tipi di campi, campi di smistamento per decidere chi, mandare dove, Campi di lavoro per quelli un po' più in salute, dove i prigionieri sono schiavizzati e sfruttati, Fino a che poi non muoiono di fame e di stenti. Campi di sterminio veri e propri, dove chi arriva non rimane prigioniero, Nell'arco di 48 ore è povere. Di quei campi ovviamente sappiamo molto poco, perché sono sopravvissuti pochissimi. Testimoni, la cenere non racconta niente, la cenere vola nel vento e basta. Chi ci ha portato le sue testimonianze veniva da altri campi. Chi è andato ai campi di sterminio è sparito nel buio. Mordecai e Gebirte non ci arriva nemmeno ai campi, la sua vita finisce a Cracovia, la città di cui era stato prima il cantore celebrato in vita e poi il poeta resistente del ghetto. Giovedì 4 giugno 1942 avviene un ennesimo rastrellamento nel ghetto. I prigionieri ebrei vengono portati in stazione per essere da lì trasferiti nei campi. E durante il trasferimento, non sappiamo bene per quale ragione, Mordecai e Gebirte viene abbattuto per strada da un nazista. Però, prima di morire, Mordecai e Gebirte aveva esortato ancora una volta i suoi compagni di prigionia a resistere e a ribellarsi. Ebrei, siate felici, che più non durerà, la guerra che ci opprime e che presto finirà. Coraggio in alto ai cuori, non siate preoccupati, credetevi se dico che hanno i giorni contati, che hanno i giorni contati. Credetemi se dico che le armi che vanno in forte, questo nostro cuore unito, ancora non son morte. E mentre danza il boia ancora non ha capito che ci ha già provato Amman. E sappiamo ancora dov'è, sappiamo ancora dov'è. Lai, 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 lai. Gli ebrei san sopportare, senza crollare mai, siamo stati pure schiavi, danzate o macellai, ci fate anche spazzare, ma finché sarete qua, spaziamo finché volete, lo sporco resterà, lo sporco resterà. Lai, 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 lai. Ci fate anche lavare, ma è il sangue che verso la mano di Caino, lavare non si può, potranno anche strapparci via la barba e la chippa, ma presto chi ci opprime, appeso finirà, appeso finirà. Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailaailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Amman, chi è Amman? Amman è un po' il cattivo della Megillah di Esther, questo perfido primo ministro del re di Persia che decide che gli ebrei devono essere esterminati e sarà proprio invece il coraggio di Esther, regina, moglie del re, che parlerà al marito, riuscirà a convincerlo che il suo nemico non sono gli ebrei come vuole convincerlo, il perfido Amman, ma è proprio Amman che sta cercando di ingannato. E qui Gebirti, tra l'altro il gerarca nazista a capo del ghetto, un tale Omen, Amman, in tedesco-idisch le due pronunce sono abbastanza simili, quindi lui fa anche un gioco di parole, il truoto si chiama Mordecai che è l'eroe della Megillah di Esther, quindi fa questo gioco di parole e di ruoli cantandogli che presto faranno la fine di Amman anche loro, anche i nazisti, impiccati. I nazisti, quelli che sono stati impiccati, sono stati impiccati molto dopo, però qua in Italia invece effettivamente i loro corrispettivi sono stati impiccati abbastanza all'inizio della liberazione. E le invocazioni di Gebirti non cadono nel vuoto perché nel ghetto ci si organizza e si lotta. A Varsavia, Mare Kedeman, ve lo ricordate, quello di cui abbiamo parlato all'inizio, e i suoi compagni del Bund, del partito, riescono a organizzarsi, uniscono diverse pozze presenti nella comunità ebraica, non solo bundiste, anche organizzazioni di natura molto diversa, come per esempio i sionisti di Shomera Zahir, che oggi è un'organizzazione scautistica, all'epoca invece era qualcosa di un po' più combattivo, insomma. E iniziano a fare questa lotta clandestina, grazie alla collaborazione della resistenza polacca, esterna. Al ghetto riescono a procurarsi delle armi, con delle azioni anche abbastanza rocambolesche, alla stazione riescono a rubare delle armi che sanno che sono lì in giacenza. La lotta armata, quindi, nel luglio del 1942 comincia, poco dopo la morte di Mordecai Goberti. È una lotta disperata, è chiaro, ovviamente. Le possibilità di vittoria sono praticamente nulle, eppure gli ebrei del ghetto di Varsavia lottano lo stesso e il 20 aprile del 1943, quindi oggi è quasi l'anniversario, ieri in realtà era l'anniversario ma era Shabbat, quindi non si poteva cantarla ieri questa storia, mettono in atto una grande insurrezione collettiva. Mentre la guerra è imperversa intorno a loro, i partigiani del ghetto lottano a loro volta. Mare Kedelman è il vice comandante dell'insurrezione del ghetto di Varsavia, e lui, che è sopravvissuto, commenta la scelta estrema con queste parole. Dice, visto che l'umanità si è accordata che morire con le armi in pugno è più bello che senza, allora anche noi ci siamo sottomessi a questa convinzione. Avevo padre e madre, e tre splendide sorelline, e tre splendide sorelline, le han presi il fuoco e le fiamme, e alle strade ora giro da me. E soffia il mio organetto, io lo suono per darci coraggio, lo suono per darci coraggio, che altrove ci attende, tre blinka, nella cedere finirà il viaggio. Siamo fredda della fame, e i morti qui intasano il ponte, e i morti qui intasano il ponte, ma alla vita torneremo un giorno a donare lo promese sul monte. La voce del mio canto, a ogni ora pervade la via, a ogni ora pervade la via, dannato per sempre sia il ghetto, e maledetto chi lo costumì. Trattati come bestie, viviamo in un incubo scuro, viviamo in un incubo scuro, ma ogni morto che vende da un palo, dice che presto finirà il buio. Siamo stanchi di andare al macello, siamo stanchi di andare al macello, o ebrei raccogliete il fucile, combattiamo, ascoltate il mio ampello. E soffia il mio organetto, io canto del nostro dolore, io canto del nostro dolore, io tosto che muo tre blinka, moriremo per la libertà. Grazie. Questa non è una canzone del nostro amato Goberti, questa è la scritta Reuven Lipschitz, un sopravvissuto del ghetto di Varsavia, e si chiama Der Hoefzinger, con Varschever Ghetto, l'organetto, l'ho tradotta io, del ghetto di Varsavia, perché Hoefzinger non ha una traduzione, una parola italiana che le corrisponde. L'eco della rivolta di Varsavia si sparge dalla Polonia, arriva fino alla Lituania, e anche nel ghetto di Vilna i partigiani insorgono a loro volta. A Vilna c'è Hirsch Klick, un poeta cantore, che sull'area di un inno russo, scrive proprio nel 1943 le parole dell'inno dell'organizzazione dei partigiani uniti. Non dire mai che questo viaggio è l'ultimo, anche se i cieli sono scuri su di noi, l'ora che tanto abbiamo atteso arriverà, il nostro pasto dice ancora siamo qua. A queste terre siamo venuti dai deserti, stringendo in cuore un malecupo e passi incerti. Il nostro sangue che ha macchiato quelle strade è la memoria di un coraggio che non cade. Il nostro sangue che ha macchiato quelle strade è la memoria di un coraggio che non cade. Ci sarà sole sul mattino di domani, cadrà il nemico come sappia tra le mani. Non è l'inchiostro che ha vergato queste rime, è sangue vivo che si oppone a chi ci opprime. Tra muro a scarne con un mitra tra le mani, le ha scritte chi lotto credendo nel domani. Tra muro a scarne con un mitra tra le mani, le ha scritte chi lotto credendo nel domani. Perciò non dire mai che questo viaggio è l'ultimo, anche se i cieli sono scuri su di noi, l'ora che tanto abbiamo atteso arriverà, il nostro passo dice ancora siamo qua. L'ora che tanto abbiamo atteso arriverà, il nostro passo dice ancora siamo qua. Grazie mille. Questa storia purtroppo finisce così, finisce nel buio, nel nulla. Lo stesso buio, lo stesso nulla in cui i nazisti e i fascisti hanno trascinato 11 milioni di persone, 6 milioni di loro erano ebrei. Hirsch Glick muore nel 1944, ha solo 22 anni, è finito in un campo di concentramento, ma non muore nel campo, da lì riesce a scappare, ma viene inseguito, catturato e fucilato sul posto. Noi questa storia la possiamo soltanto ricordare. Possiamo raccontare l'eroismo di Hirsch Glick, possiamo raccontare quello della sua compagna Wittkaken, perché da sola con una pistola in mano affronta una carovana di convogli nazisti che stanno arrivando e riesce a farlo saltare in aria con una bomba a mano. Possiamo raccontare il coraggio di Marek Edelman che durante l'insoluzione del ghetto di Varsavia, quando alla fine sono accerchiati nell'ultima casa, attraverso un tombino, lui e pochi compagni riescono a fuggire attraverso le fogne a portare la loro testimonianza di quella lotta al di fuori. E possiamo raccontare di Mordecai Gebirti, che ci voleva cantare le meraviglie di una vita normale e che invece è finito per cantare a tutti noi gli orrori del ghetto. Però io questa storia la voglio finire cantando una canzone diversa. È una canzone che ha scritto un partigiano italiano, ebreo, che viveva a Carrara, però lui in realtà era delle nostre parti, era di Borgotaro. Cesare Bassani, partigiano Sem, se andate al piano di sotto trovate anche un pannello della mostra dedicato a lui e la sua foto. E lui discendeva da quella categoria di italiani che per tre secoli erano stati chiusi in un ghetto. E poi erano stati vittime delle leggi razziali, le deportazioni, eccetera, e lui però dedica alla sua patria una canzone che è piena d'amore, d'orgoglio e di voglia di riscatto. Per chi sosteneva che gli ebrei non fossero veri italiani, per chi prese la decisione di estrometterli dalla vita pubblica, per chi partecipò attivamente al loro sterminio, io credo che ancora oggi questa canzone sia la risposta migliore. Nemmeno Cesare Bassani, partigiano Sem, vede l'alba della liberazione. Lui viene ucciso durante il bombardamento della stazione di Borgotaro e non vede il 25 aprile. Noi invece ce l'abbiamo a un passo e quindi prima di salutarvi auguro buon 25 aprile a tutti voi. Sugli aspri monti ci siamo fatti lupi, il nostro grido è libertà o morte, al piano scenderemo per la battaglia e la vittoria. Noi rivivremo in un fulcor di gloria, sorrideremo nel vivere l'amica. Sul campo sorgerà la nuova Italia, con la guerriglia. Per vendicare un mondo di giustizie, per risonare un mondo di vergogne, rimbombando il suo rombo redentore, la dinamite. Per tutte quelle vittime invendicate, per tutte quelle facce scherettite, non penseremo sulle barricate, io toco il mio amore. E fin dove possa giungere lo sguardo, lontano fino all'ultimo orizzonte, e anche giunta a venticarlo l'uncaccio, la nostra guerra. Tramonti, valli, boschi, ci battiamo, perché si possa ancora, e con orgoglio, gridare come il duono è ancora più forte, viva l'Italia! Gridare come il duono è ancora più forte, viva l'Italia! Viva l'Italia! Grazie! Grazie mille! Applausi! Grazie! Applausi! Allora, intanto, grazie a tutti voi per il calore, per tutti gli applausi, sono veramente emozionato, sono emozionato di poter cantare a un passo del 25 aprile e un passo dopo l'anniversario invece dell'insolazione del ghetto proprio qui, in questo posto che io amo veramente alla follia. Quindi, grazie Susi, grazie Roberta per avermi dato la possibilità di fare questo concerto qui oggi, grazie Susi e Roberta in quanto personificazione del Museo Ebraico Pausto Levi di Soragna, e grazie a tutti voi per aver ascoltato, per aver applaudito, allora vi saluto con un'ultima canzone, sempre di Gabirtig, questa l'ho lasciata fuori dalla scaletta perché non sapevo come integrarcela, ma forse quella che amo di più, tra quelle che ho tradotto, e si chiama Kinder Joran in Yiddish, ossia Kinder Joran perché conoscete il tedesco, gli anni dell'infanzia. Gli anni dell'infanzia ormai lontani stringo nel ricordo tra le mani se ci penso, se rivango quel passato quasi piano mi ritrovo presto tra gli anziani nella stanza in cui sono cresciuto c'era un letto e un tavolo a minuto il giaciglio in cui sono nato non so più dove si è andato come un sogno all'alba si è perduto mi mamma si sa, ce n'è una sola mi mandava dal rabbino a scuola sento ancora sul mio viso la carezza il suo sorriso sento la sua voce una parola ti rivedo ti rivedo feigle mio amore bacio le tue guance nel rossore delle labbra che mi mordi chissà se anche i tuoi ricordi sono volati via come vapore anni dell'infanzia fiori muti siete andati via siete perduti ora guardo nello specchio il mio volto è ormai di un vecchio un fiore che oramai non darà affronti anni dell'infanzia ormai di molto la mia dolce mamma ho già sepolto so che non ritornerete non ha pace questa sete presto sarà il tempo dell'infanzia dei lavabolti grazie